C'è 40 anni che l'amministrazione è sempre la stessa, pessima. E che bisogna fare per dare una svolta? Ci vorrebbe il coraggio che qualcuno si presenti alle prossime elezioni per cambiare tutto da zero, ma non soltanto la parte politica ma anche la parte amministrativa. Quindi dovrebbe dimettersi la sindaca e i consiglieri comunali secondo lei? Sì, tanto ormai siamo arrivati alla fine. Sono scontenti i battipagliesi dell'amministrazione comunale della sindaca cicilia-francese per come governano Battipaglia. La sindaca prima di essere eletta ci fece una promessa per quanto riguarda la spazzatura, non ha mantenuto nessuna di queste promesse, anzi ha aumentato ancora di più, ancora più di ciaggia per quanto riguarda la spazzatura. La micro criminalità che adesso è un problema enorme, specialmente la sera dopo le 7 è un problema, specialmente vicino alla stazione ci stanno extracomunitari che fanno i comodi loro anche qui a Via Italia la sera. È gente ubriaca vicino alla stazione, una ragazza o un ragazzo non può passare perché incontra sempre brutte persone. Ci sono tante problematiche in fin dei conti. Ecco, uno dei problemi che lei sente di più? La viabilità, il problema è che si fanno più scavi qua che a Pombè, ho detto a tutti. Poi ti visto che un altro stanno scavando in fondo a via, a mettere in fondo là. Questo è il problema, proprio per il resto diciamo, questi piccoli accalimenti di questi ragazzi alla sera, ci vorrebbe un po' più di sorveglianza in fin dei conti. Maggiori controlli. Eh, però diciamo, il personale forse non è troppo comunque, vorrebbe un po' più di attrazione per il giorno, perché diciamo che a fine settimana la maggior parte dei ragazzi se ne vanno tutti fuori, o a Gropoli, Salerno, si vive poco con Battipaia in fin dei conti. C'è stata bella l'iniziativa che hanno fatto giù alla villa il mese di agosto, quella è stata una bella manifestazione. Battipaia è un paese alla deriva proprio, per me. Non ci sono controlli, zero, ci sono parecchi casi la sera, dove ci sono d'extracomunitari che danno fastidio. Anche l'altro giorno ci sono state una ragazza, sì, una ragazza è dovuta rifugiare in un portone, perché c'erano sei, sette d'extracomunitari che la davano fastidio. È impraticabile, secondo me, Battipaia. Quindi anche la sindaca, l'amministrazione comunale dovrebbe impegnarsi per chiedere maggiori controlli alle forze dell'ordine? Sì, sì, certo, anche la sindaca si deve impegnare in questa situazione, comunque non è vivibile, dire il vero. Ma per dare una svolta a Battipaia dovremmo arrivare a nuove elezioni? Dovrebbero dimettersi, secondo lei? Sì, sì, per me sì, si dovrebbe dimettere, la sindaca si dovrebbe dimettere, anche perché fino ad oggi non ha fatto nessun passo avanti, è proprio un declino. Battipaia, Battipaia, è molto bella, molto felice qua, però è un problema qua, trovare casa, molto difficile. Non si trova casa? No, qua. E non è di qua? No, io abito qua, però io cercare casa, molto difficile qua in Italia.